Liceo Classico e Scientifico di Cuneo, la più antica scuola della città. In questa scuola sono passate tante generazioni di studenti che oggi affrontano nella loro vita tante professioni. Quando facevo il terza media non sapevo in realtà che scuola avrei scelto, ma visto che la matematica è la mia passione fin da quando sono piccola, ho deciso per scegliere questa scuola. La scelta della scuola è stata difficile, ho scelto il liceo scientifico Scienze Applicate perché mi piace l'informatica, mi piacciono le materie scientifiche. Inizialmente, in prima, ho deciso di frequentare questa scuola perché desideravo avere una preparazione completa nel momento in cui fossi uscita in quinta, in modo da poter scegliere qualsiasi scuola volessi. Frequentando questa scuola si può comunque continuare a coltivare le proprie passioni, infatti con impegno e determinazione si può avere un buon rendimento in entrambe le situazioni. Consiglio questa scuola perché è una scuola impegnativa ma che è in grado di darti tanto, è in grado di farti imparare cose molto importanti non solo a livello accademico ma proprio nella vita. Essere curiosi, essere interessati, secondo me queste sono due caratteristiche che possono dare bene per un liceo scientifico nelle sue versioni. Abbiamo indirizzi diversi dall'indirizzo ordinamentale, le scienze applicate, l'ESAVAC per il francese e oggi abbiamo anche una curvatura biomedica per chi vuole proseguire in questo senso. Non mancano gli sportivi, abbiamo un indirizzo scientifico sportivo, sportivo sì, ma scientifico a tutti gli effetti. Sono abituata a dire in orientamento si mangia matematica a colazione e pranzo e cena, quindi bisogna assolutamente avere un po' la predisposizione per questo. Non spaventatevi, se all'inizio può essere dura è un percorso di grandi soddisfazioni. Cosa si può fare dopo? Qualsiasi cosa, sia dal punto di vista universitario ma anche dell'emissione nel mondo del lavoro. Quello che lo scientifico può dare è una preparazione ad ampio spettro per tutto quello che serve. Come ha scritto Nicola Gardini, chi coglie la bellezza di una lingua inutile, come per esempio il latino e il greco, diventa capace di capire la libertà, l'armonia, la molteplicità e la complessità. Possiamo dire che il liceo classico offre una preparazione a 360 gradi. Chi esce dal classico sa pensare, sa riflettere con argomentata profondità, sa scrivere, sa parlare con indipendenza di giudizio. E attrezzandosi per il futuro, basa le proprie conoscenze sul passato e diventa forse più capace di affrontarlo il futuro. Il liceo classico forma menti plastiche, capace di aprirsi ad ogni percorso successivo. Ho scelto il liceo perché cercavo un'esperienza che mi mettesse alla prova e che mi desse tanto. Il liceo è stato proprio questo per me. Mi ha dato tanto umanamente e anche accademicamente. Sicuramente la capacità che mi ha dato soprattutto questa scuola è la capacità di organizzarsi perché alla fine l'importante è appunto darsi un ordine ed è quello che poi servirà nella vita. Dal primo giorno in cui sono entrata in questa scuola è diventata come un po' la mia nuova casa perché subito mi sono sentita a mio agio con i nuovi compagni con cui mi trovo benissimo. Adesso che sono arrivata alla fine dei miei cinque anni di liceo posso assolutamente dire che tutti quei sogni e quelle aspettative che avevo quando ho iniziato si sono realizzate. Oltre alle attività sportive si possono svolgere molte attività extrascolastiche con la scuola. Ad esempio l'altro anno sono andato due settimane in Inghilterra quindi è un'attività molto formativa. Sapevo i rischi che potevo correre ma non ho mai avuto timore o paura di venire a frequentare questo liceo. Come cultura il classico offre davvero tantissimo e quindi se siete anche indecisi non sapete tanto bene cosa fare senz'altro questo. Questa scuola dà delle basi fondamentali e io mi sento proprio di essere cresciuta moltissimo in questo ambito appunto durante questi quasi cinque anni. Io auguro a chi sceglierà questa scuola che è una scuola impegnativa ma che ha la pretesa di darvi un'ampia e approfondita preparazione. Auguro di poter dire un giorno quello che noi quotidianamente ci diciamo. Noi diciamo grazie a questa scuola per quello che siamo diventati.